CINEMA USE CINEMA USE CINEMA USE CINEMA USE CINEMA USE E lei da dove sbocca? Di che cosa sta parlando? Lei sa come battersi, ma è troppo anziano per pensare di vincere trago. Ah, è così che la pezzi? Sì, e potrebbe essere molto doloroso. E lei faccia salire quel sacco di patate sul ring con me e poi vedremo per chi sarà doloroso. Bravo! 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 Coraggio, è ora da andare a scuola, figliolo! Dai, alza le mani, biondo, che ti sembra un interprete! Su, è ora da andare a scuola! Vincerello! 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 Tu hai letto che c'è scritto sui giornali? Lo sai cosa dicono tutti? Che è un suicidio! Lo hai visto, lo sai quanto è forte! Non riuscirai a vincere! Gli hai fatto male! Adesso ha paura! Lo hai ferito! Gli hai fatto male! Capito? Hai capito? Non è una macchina! È un uomo! Gli hai fatto male! Quello che devi fare va bene! Sì! Ti irrobustisce! È vero! So che dovrei fare quasi tutto da solo qua su! Ma io sarò con te lo sai? Sì lo so! Apollo era come mio figlio! L'ho cresciuto io! E quando è morto? Una parte di me è morta! Ma adesso ci sei tu! Rocky sei tu quello che terrà vivo il suo spirito! Sei tu quello che dimostrerà al mondo che lui non è morto in vano! Dovrai superare prove che ti sembreranno peggiori di qualsiasi! Ma alla fine so che sarai tu per stare in piedi! Io ci vedo! Io ci vedo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.